Musica Amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati Recensione lampo oggi sul mio canale perché non parleremo di un album, bensì di un singolo Tra l'altro singolo recentissimo perché parliamo di Animals degli Architects disco o meglio canzone uscita il 20 di ottobre Oggi è il 25 dunque arriva un'analisi un po' a freddo di questo singolo Un gruppo tra l'altro con degli Architects che io oggettivamente non conosco e non conoscevo fino a qualche giorno fa Devo ringraziare Marco un mio amico che mi ha inviato tramite Whatsapp questa canzone Altrimenti non avrei potuto fare questa recensione lampo È un singolo che effettivamente mi ha preso bene, è un singolo che se dovesse mantenersi diciamo come linea per tutto l'album Può essere sicuramente un buon ponte per farmi scoprire questi Architects che io oggettivamente non conosco E mi sono un po' informato prima di fare questo video ho scoperto essere una band inglese Che prevalentemente si concentra su genere hardcore, metalcore e hardrock in generale Quindi comunque c'è tanta cosa interessante e tanta carne al fuoco da mettere evidentemente anche per recuperare gli album precedenti Per quanto riguarda il singolo è un singolo che alterna molto bene grandi ritmi di aggressività nelle parti strumentali Con ritmi un po' più deboli e un po' più ritmati nelle strofe per poi esplodere per quanto riguarda il ritornello Che evidentemente è la parte più importante di questa canzone e il motivo per cui mi ha preso bene questo singolo Perché effettivamente il connubio tra strofe che danno il preludio a questo drop più volentissimo del ritornello Sono fatte veramente bene e anche il ritornello pur essendo cantato in pulito se così si può chiamare Comunque è evidentemente l'elemento portante di quest'Animals Se oggettivamente non ho idea se questi Architects hanno sempre suonato così O che questo potrebbe essere un'innovazione di un sound per il disco del 2021 Se voi che vedrete mai questo video conoscete gli Architects magari datemi due dritte su quale album recuperare Perché evidentemente la band inglese mi sembra oggettivamente valida e mi sembra strano anche che me la sia persa In ogni caso Animals è un singolo assolutamente valido che vi consiglio di recuperare ovviamente il video ufficiale Lo lascio qui sotto in descrizione insieme a tutti i miei social e anche al secondo canale Dove stasera verso le 19.20 uscirà il video del post gara del Gran Premio di Formula 1 Tornando invece al disco di Animals è assolutamente interessante Molto bene ovviamente il cantante perché devi avere delle tecniche importanti per arrivare a questo livello Insomma è un buon connubio sia strumentale sia per quanto riguarda il vocale Assolutamente promosso questo singolo Animals e speriamo veramente che questo album possa essere interessante Bisogna aspettare purtroppo tre mesi però evidentemente questi Animals mi hanno preso bene Ed evidentemente mi andrò anche a recuperare le discografie precedenti di questo gruppo Fatemi sapere cosa ne pensate di questo singolo Io ripeto lo promuovo a piedi voti in attesa del disco del 2021 Il saluto da parte di Vetorgard Ci vediamo presto con una recensione di un album qui sul canale principale E stasera invece alle 19.20 dipende l'orario per il post gara della Formula 1 Su secondo canale al quale ovviamente vi invito a iscrivervi Tutto qui sotto in descrizione insieme a tutti i miei social Ci vediamo per un prossimo video